Torna il prossimo 26 dicembre il presepe vivente di Fossato di Vico che si tiene per le suggestive vie del centro storico del Borgo Appenninico dalle 16.30 alle 19.00. Quest'anno la chermessa avrà una connotazione medievale con la rappresentazione di più di 15 mestieri dell'epoca. La manifestazione è stata presentata stamane lunedì 18 dicembre presso la sede di Gubbio del Galle Alta Umbria alla presenza del presidente del Galle Giuliana Falaschi, del sindaco di Fossato di Vico e vicepresidente del Galle Alta Umbria Monia Ferracchiato e da Mirella Smacchi, presidente del comitato di frazione di Fossato Capoluogo, associazione organizzatrice dell'evento. Questa rappresenta l'ultima delle manifestazioni che abbiamo sostenuto da un punto di vista promozionale come Galle Alta Umbria nel 2017. Un programma intenso è stato quest'anno nonostante partiti circa a metà anno e ci ha dato anche direi notevoli soddisfazioni perché sia la parte pubblica, gli enti comuni comunque, che tutte le associazioni di volontariato che poi girano intorno alla gran parte degli eventi come anche in questo caso hanno bisogno anche del nostro sostegno per superare anche questo momento di difficoltà che stiamo attraversando. Quindi ci fa particolarmente piacere un'iniziativa, un'evento come questo che comunque ricorda anche le nostre radici, il presepe vivente, tra l'altro con costumi medievali, quindi un qualcosa che va anche a valorizzare le bellezze del centro storico di Fossato di Vico, quindi questo ci fa particolarmente piacere. Inoltre sappiamo che molte sono le associazioni che si sono impegnate, che hanno collaborato insieme e ne è uscito un lavoro sinergico che sicuramente è meritevole d'attenzione e sarà anche l'occasione per molti turisti che vengono in Umbria per venire a visitare questo bellissimo angolo dell'Umbria che è appunto quello che ruota tutto intorno anche al parco del Monte Cucco. Quindi credo che sia estremamente importante questo e che sia un luogo particolare proprio per il Natale. Questa è l'ultima manifestazione dell'anno e si terrà il 26 dicembre, dalle 16 e 30 in poi. è una manifestazione che diciamo valorizza il Borgo di Fossato. Il Borgo di Fossato già di per sé è un piccolo presepe, illuminato con i personaggi appunto del presepe, acquista una valenza suggestiva che secondo me pochi altri borghi riescono ad avere. Speriamo faccia anche qualche fiocco di neve così l'atmosfera sarà ancora più natalizia. C'è la novità quest'anno rispetto all'anno passato in costumi medievali? Sì, tutto il presepe sarà effettuato in costumi medievali che è in linea con quello che è il tema Fossatano. Abbiamo la festa degli statuti che anche quella è ambientata nel periodo medievale e il presepe sarà appunto ambientato anche in questo periodo storico. Oltre a questo questo viene organizzato dal comitato di frazione di Fossato Capoluogo insieme al Medio Fossatano ma anche insieme a tutte le associazioni del territorio e anche agli altri comitati di frazione del territorio di Fossato. Io come ho fatto già in precedenza mi sento di ringraziare tutti per la collaborazione nello svolgimento di queste attività che ripeto e sottolineo non è assolutamente scontata ma è un valore aggiunto che Fossato ha. E altro elemento rispetto all'anno passato è la devoluzione dei fondi che verranno raccolti al centro Alzheimer. Per cui questi fondi verranno donati al centro Alzheimer per la realizzazione di un progetto volto appunto alla valorizzazione delle attività che svolgono all'interno del centro. Già l'anno scorso i fondi erano stati devoluti comunque sempre per un fine benefico vale a dire alle zone terremotate e con precisione a Norcia e quest'anno invece abbiamo pensato ad un'associazione del territorio. Fossato di Dico è già un centro medievale quindi è anche facile collocare un presepe vivente medievale all'interno delle mura quindi è stata un'idea quasi furbesca nell'insieme quindi speriamo che piaccia perché l'anno scorso è stato un presepe vivente un pochino più antico. Quest'anno andiamo nella nostra zona che è il Medioevo. E si snoderà lungo tutte le vie del centro storico permettendo anche la scoperta o la riscoperta di luoghi magari che per chi non li conosce sono sconosciuti appunto. Sì beh perché ci sono dei piccoli posti che noi del posto amiamo e conosciamo mentre per chi arriva è più difficile anche conoscerli. Quindi abbiamo creato all'interno vari spaccati di vita in modo che chi arrivava poteva conoscere il paese e amarlo come lo amiamo noi. Verrà svolto il 26 dicembre. Prima dell'intervista precedente il sindaco auspicava qualche fiocco di neve e noi speriamo che si fermi lì perché voi avete già previsto una data nell'eventualità in cui ci sia cattivo tempo. Beh sì perché fossato comunque diventa difficile se nevica perché speriamo quindi che pochi fiocchi giusto per creare l'atmosfera perché altrimenti sarebbe difficile. Abbiamo deciso di darci un'altra data che è il 6 gennaio in caso di maltempo perché dicembre ci lascia sempre un po' perplessi come tempo quindi speriamo poi che il 6 gennaio se va male il 26 va bene il 6 gennaio quindi speriamo bene.